Ciao a tutti, io sono Jeanne e benvenuti sul mio canale Oggi mi sono cresciuti i capelli Ho cambiato anche il colore Adoro Guardate che lunghi i miei capelli E la missione del pigiama I miei capelli sono cresciuti all'improvviso Oggi c'è una collaborazione Con Donna Love Ho ricevuto questa bellissima parrucca Meravigliosa, andate bella Troppo, troppo, troppo carina E Quello che troverete nel vostro pacco La nostra bellissima scatola Poi qui abbiamo la parrucca con tutta una rete per reggerla ancora meglio nel trasporto Così non si rovina Poi abbiamo la rete per reggere i nostri capelli In più abbiamo una spazzola che ci aiuterà a pettinarci Dopo vi lascio il video di come mi sono messa la parrucca Questa è la spazzola che pettina tranquillamente E in più Questi boccoli si possono lisciare a 180 gradi con la piastra Quindi anche se sono sintetici Perché questo sito Donna Love Hanno sia parrucchie sintetiche che a capello naturale E questa è sintetica Ma nonostante ciò si può stirare Yeeeh No ma l'adoro Mi piace troppo Pam Chi non ha mai sognato di avere i capelli lunghi così Guardi più così Violet E niente Vi lascerò nell'info box il link di Donna Love In più Chi scriverà Gianina Lì quando andate ad acquistare le parrucche Avete un ulteriore sconto del 25% E niente L'adoro Sicuramente non vado a fare la spesa Ma uscire una sera incendosi Così nessuno mi riconosce Ciao Donna Love Spero che il video vi sia piaciuto Non dimenticate di lasciare un like Di condividere Ci vediamo al prossimo video Ciao Boccoli 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 Tam 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 Boccoli 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 Tam tam tam